Ciao a tutti, oggi siamo alla Vecchia Fattoria, un allevamento pensione per cani insieme a Giorgio Porcino. Ciao Giorgio. È una meravigliosa cucciola di che razza? È un Cavalier King Charles Spaniel, un cucciolo di tre mesi. Elisabetta. Elisabetta, esatto, questo è il suo nome. E oggi parliamo di vaccinazioni. Esatto, le vaccinazioni sono un capitolo importantissimo della vita di un cane, ma anche di un gatto, oggi parleremo di cani. Le vaccinazioni, tutti i proprietari di cani lo sanno, hanno praticamente un caposaldo di quello che è l'inizio della vita di un cane in una famiglia. Le vaccinazioni servono a che cosa? Servono comunque a prevenire determinate malattie. Le malattie più importanti per cui i cani vengono vaccinati sono il famigerato cimurro, l'epatite, la gastroenterite virale, la leptospirosi ed un'altra malattia che viene chiamata tosse di canile o per tosse dei cani. Questi vaccini hanno praticamente un'epoca in cui devono essere fatti, quindi l'età del cane è importantissima. I piani vaccinali che vengono suggeriti sono a volte diversi, per cui spesso e volentieri i neoproprietari si trovano, non dico in situazioni di confusione, però hanno magari delle incertezze o non capiscono molto bene. L'età del cane, più o meno, per essere vaccinato può corrispondere intorno ai 45-50 giorni. Cominciamo all'inizio, i piani vaccinali possono essere più o meno diversi. Ogni collega magari ha capacità o decide che deve partire con un monovalente, poi poi passare a un bivalente, un trivalente o eventualmente ci sono delle altre potenzialità che riconoscono dei vaccini quadrivalenti, pentavalenti. Allora è importantissimo che un cane prima che acceda ad aree esterne, quindi parchi, giardini, ville, che abbia la sua vita sociale, abbia comunque un piano vaccinale corretto e completo. Quindi diciamo una cosa, il lorencimurro è questa malattia molto molto pericolosa e diciamo per lo più, nei casi più sfortunati, decisamente mortale. Quindi è importantissimo che il cane abbia almeno questo vaccino. La gastroenterite è un'affezione, appunto, come dice il nome stesso, dell'apparato gastroenterico. Si riconoscono tre ceppi, uno da parvovirus, uno da corone e uno da rota. Il parvo è notoriamente quello più aggressivo e quello che dà una potenzialità, insomma, di infezioni più alta e più grave. Le altre due, non che siano di serie B per carità, però comunque sono a volte, insomma, più facilmente superabili. La terza vaccinazione importantissima da fare è la leptospirosi. La leptospirosi è quella malattia che viene trasmessa attraverso... I topi? Attenzione, credo che lei voglia fare un capriato rovesciato. Allora, attraverso i topi, non solo i topi, naturalmente possono essere anche altri, ci possono essere anche altri vettori. Infatti viene raccomandato a tutti i cani che gravitano più o meno intorno ad aree esterne, riferibili, non so, a campagne, oppure lungo corsi di fiumi, di fare la vaccinazione per la leptospirosi due volte l'anno, perché l'immunità che ne deriva non è così lunga come quella che potrebbe essere quella delle altre malattie che sono dei virus, mentre la leptospira, come dice il nome stesso, è una leptospira, per cui ha un'immunità sicuramente più breve. La quarta vaccinazione, diciamo, è l'epatite e la quinta vaccinazione, a questo punto, potremmo prendere in considerazione la pertosse. L'apertosse è questa affezione, diciamo, respiratoria, bronchiare, ma più che altro delle prime vie respiratorie, l'agente enziologico ha questa bordetella e dà, naturalmente, come forse tu avrai avuto, non so, per le bambine, una pertosse. Esatto. Come i bambini, insomma. Come i bambini, sì. Quindi l'apertosse è un'affezione, non vogliamo assolutamente dire, di serie B, per carità, però comunque normalmente non è febbrile, è un po' autolimitante, quindi viene, fa il suo percorso e se ne va. I cani vengono portati alla visita perché notoriamente, insomma, hanno una tosse veramente esagerata. I proprietari immaginano sempre che sia rimasto qualcosa in gola, per cui in realtà c'è questa tosse veramente esagerata. A volte c'è anche un espettorato abbastanza, diciamo, mucoso, più o meno schiumoso, che è dovuto appunto a queste infiammazioni della trachea molto, molto violenta. Il veterinario, quando voi andrete appunto alle prime visite, vi darà notoriamente, si fa così, insomma, un libretto. Un libretto sanitario, questo libretto sanitario è un libretto, diciamo, banale in un certo senso, perché oramai in quello che sta succedendo negli ultimi anni viene completamente sostituito da determinati altri libretti che sono il passaporto, ne parleremo poi in futuro, iscrizione alla gaffecanina. Quindi questo libretto è comunque molto importante da tenere, nel senso che è un vostro promemoria. Esatto, un promemoria dove poi il veterinario scrive tutti i vaccini fatti. Esatto, diciamo che è una cosa molto banale che comunque, non so per quale motivo, ma tutti i proprietari di cani desiderano poi avere e alla quale tengono moltissimo. Le vaccinazioni, come diciamo all'inizio, hanno comunque poi bisogno di essere richiamate, quindi un vaccino di richiamo che a questo punto può essere differente dalla vaccinazione di base, perché la vaccinazione di base consiste in inoculazioni più o meno, diciamo, separate a distanza di 3-4 settimane per sfruttare appunto un discorso, diciamo, che viene chiamato effetto booster di produzione di anticorpi. Basterà una vaccinazione l'anno, quindi praticamente un richiamo annuale, a quel punto le vaccinazioni, diciamo, polivalenti possono essere comodamente usate per far sì che il nostro cucciolo abbia per tutta la vita più o meno una protezione. Se il nostro cane è in buona salute e sta benissimo, quella, chiamiamola, quella vaccinazione una volta all'anno in realtà servirà, se non altro, ad un controllo generale che il vostro veterinario medico curante effettuerà controllando poi i parametri che possono essere inerenti all'attività cardiaca, attività respiratoria, un check-up che può essere comunque fatto, se è un cane adulto, tanto più con delle analisi del sangue ed eventualmente con un controllo per quello che potrebbe essere l'ingegno orale, eccetera. Quindi il vaccino all'inizio della vita del cane ha un'importanza, perché comunque abbiamo detto che ci preserva da tante cose. Se viene fatto poi negli anni successivi, al di là dell'importanza sicuramente di quello che potrebbe essere la salute del cane, ha comunque questa situazione. Spesso molti cani vengono portati per una vaccinazione e, diciamo, in quella visita che poi viene fatta in maniera un po' più attenta, specialmente se sono cani più avanti negli anni, a volte, casualmente, si scoprono delle patologie che magari in altre situazioni non sarebbero venute fuori. Grazie Giorgio. Allora ci vediamo presto e lasciamo Elisabetta in libertà a giocare con gli altri cani. Ciao!